Il terzo episodio Sono arrivato, un po' che mi aspetti Sempre molto espressiva la nostra Max Bella la macchina 100 km da qua Vicino Non preoccuparti Ah, non vedo l'ora di postarla Ho avuto da fare Cazzo Ah, è figo quel film Visto FASTER PUSSICAT Ho bisogno di parlare Ho bisogno di parlare con qualcuno Solo per uscire il mio sistema Il Dr. Warren Graham è in casa Non ne vedo l'ora di più Non ne vedo l'ora di più Non ne vedo l'ora di più Fai tutto Ho avuto un'esperienza molto bizzarra Nella classe del Dr. Jefferson Oggi Cazzo Cazzo Di cosa stai parlando C'è l'ora di più Ma parlando Siamo tu di nuovo Ma non ne spiegli con me Non sono nuova Sive qui per anni Per anni E tu dovresti sapere Che Prescott ha nascita Quindi non devi preoccupare Mi preoccupare Mi preoccupare Non mi analizzare Mi pagano Pagano persone Non mi preoccupare Ma che L'ora di più Ma che Prescott Oh man, ti dicono a me cosa fare? Stai fuori da lui, ragazzo! Ehi, lasciatelo solo! Nienuno mi dice a me cosa fare! Non i miei bambini, non i principali o quella uffa nel bambino! Max? Chloé? Niente modo! Tu ancora! Go, go, ho fatto questo! BAM BAM! Madonna che sciaffe! Ma questo canno è psicopatico, ma nessuno fa nulla Penso a te, ma poverino Warren No, la Bubbled, che figa C'è tu che dovresti ringraziarmi Mi stava perdita Ragazzi, sembrano degli illuminati ovunque qua No, non ho idea Non ho idea Non ho idea Certo 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 Già Certo 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 Il tuo hotel CAMERA Ma inizia il capitolo 2 adesso, non ci sono mai stati questi cambi qua Maybe, I don't know The Simpsons, dai non solo io l'ho pensato, raga, dai, dite la verità Allora, basta Sì, è una bella merda, che carina Salvataggio, è un cicinciao, quello di Twitter Seguitemi su Twitter, raga, mi raccomando, Gabi Squared Gabo di Squared Post con delle zenne TV, beer, della pizza, la solita roba Il mio quarto sembra un po' differente da l'ultima volta che l'ho visto È bello, almeno possiamo tranquillare Questo non è proprio la mia zona di tranquillazione, il mio stepfuhrer, sicuro di questo Vieni e chiudi la porta Ok, metto un po' di musica Dove devo andare per mettere la musica High five Non si accenderà senza corrente Ok Posto è presso una scomparsa, ancora Cazzo è stata lei, allora, a stampare i volantini Ah, allora dovremmo cercherla, no? Non ti? Oh, meno male che non ho messo la... Cattolino Cazzo non ho letto Borsa Borsa per il boccato Armadio Armadio Misura d'altezza Sono cose che facevo anch'io, raga Ma mica del cuore Dove cazzo è la musica? Ma vi pare? Scrivania Guarda Ok Dove sono i cd, bomberissima? Dove stanno? Festa tutta la notte Sì, può darsi Aveva 12 anni Sì, però magari potrei anche tornare indietro Grazie Magari una risposta migliore non sarebbe male Perché c'è da tornare ancora indietro? Vabbè Comunque Parla Faccio foto Oh, vedete? Meglio così Ok Cerchiamo qua Ah, sì Eh, raga ma Vorrei capire Ma che cazzo devo fare Devo trovare della musica da mettere Ok Cerchiamo il cassetto Quanto ci divertiamo a disegnare assieme Minchia Erano proprio amiche per la pelle Cerchiamo la scatola Però pictures Qua ci sono delle foto Guarda Chloe e il suo padre erano così vicini Non vorrei sbirciare a qualche paro che poi si inchiazza Presa multipla Ok, accendi Ecco qua La Perfetto signore Mi sa che abbiamo trovato il modo per accendere la musica Guarda Dobbiamo trovare un disco Ok, guardiamo nel cestino Eh, guarda Vuol dire segreti No Si incazza Ah, cd Incredibile Ok, abbiamo un cd No, però stai fermo Guarda Ma questa non è Dana Dana Oh cazzo Segreti Cosa è successo, zia? Però mi sa che ero obbligato per creare lì il cd Qual è? C'era Amber Ah, non è cosa Ah, non è cosa Madonna Non l'ho dimenticato Non l'ho dimenticato Non l'ho dimenticato Anche se ero un cd Cosa è successo? Cosa è successo? Cazzo sei mesi fa era scomparsa Come lo sai Cazzo Ok scusami vado E' bella intrigante come storia raga Sicuramente adesso dovremmo trovare La sua amica Sicuro Mettiamocelo a sto CD Ok è pieno di coppia Lo so lo so perfettamente La canzone è bellissima Un bel cannone Come sempre Ok 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 vado Agli ordini Andiamo A cercare gli attrezzi Per riparare la nostra Macchina fotografica Ok Vai di sotto Andiamo di sotto Allora Qua si esce sicuro Non si va da nessuna parte Un messaggio da Kate Chi è Kate Ehi Max sei in giro Sempre tu Sempre Tutto ok ti vai di prendere un tè più tardi Assolutamente Sono libero dopo le 4 A più tardi Grazie ancora per avermi aiutato Nessun problema Con il tipo uno stronzo Ah quella che abbiamo saltato Ma ragazzi Scrivono proprio come delle bimbe minchia Ascoltiamo Che cazzo Ok Dovremmo trovare Gli attrezzi Però qua c'è del cibo Che non mi serve Qua c'è una porta Che si può aprire Ok Adesso posso fare il giro Ok Perfetto Allora auto Mi sa che possiamo solo guardarla E basta Allora cerchiamo gli attrezzi Cerchiamo Attrezzi più piccoli per la fotocamera Perfetto Portatile si può usare Si infatti Allora Vediamo nella credenza Se c'è qualcosa Degli oggetti incredibili Una tv Sezione avrà delle conseguenze Accendiamo Merda 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 Si ma chiudilo chiudilo Che cos'è sta roba Wowzer Una mappa di Blackwell Academy Sta cosa mi convince poco Vai ce n'è una lavatrice Così si muove Grande Max Ovviamente Adesso come ti prendi Adesso spegniamo Perché se no andiamo nell'occhio Spingi Spingiamo il cartone Ok Eh si Merda Eh mo Però chiudi la zia qua Ok brava Così non dai nell'occhio Allora dobbiamo prendere Secondo me Degli attrezzi Non lo so però Ah La straliera Porca puttana Manca un'arma Si spendiamo però Non lasciamo aperto nulla Non si sa mai No Raga è tutto spiegato Cioè Io adesso non vorrei dire una cazzata Secondo me Secondo me raga C'entra lui qualcosa Con sta roba qua Ok Allora facciamo così Spingiamo Torniamo indietro nel tempo Vabbè ok Sta roba qua L'ho vista No c'è ancora la roba indietro Merda raga ma Devo tornare indietro un tot Perché poi ho guardato Della roba Ok No Ho sbagliato ancora Indietro 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 Ok aspetta Prima di accendere la lavatrice Ok Attrezzi sono sopra Allora qua dobbiamo chiudere Dobbiamo chiudere la credenza No io spero che però lei sappia Che è il padre Adesso non è che bisogna per forza Allora Vediamo Lo sa vero Vediamo come reagisce Infatti Il padre Perfetto Allora adesso spingiamo il cartone Salta Accendi la lavatrice E casca tutto E ora te lo riprendi Bella sta roba qua comunque Puoi saltare Sì Hai Ok Apriamo la credenza qua Qua non c'è un cazzo vero? No Ok Però quella roba lì della Sì quella roba lì lo sa già Vediamo Il portatile ragazzi Qualcosa Secondo me devo guardare qualcosa In quel portatile lì Cose si fanno interessanti Secondo me È tornata a casa La sua bolletta elettrica All'interno è scaduta Merda Secondo me Cioè Darebbe troppo nell'occhio Secondo me Non c'entra lui Fondamentalmente Però Raga Molto aggressivo Si comporta male Qua c'è il bagno Non mi interessa Anche se adesso Mi piacerebbe dare una bella Sbricciatina in generale Vale dirgli anche Delle telecamere Atterissi Ok Devo entrare un po' Nell'ottica Di tornare indietro Un tempo Perché l'avrei dovuto far Prima quella roba del cartone Oh-oh-oh I don't know I don't know Ero lì Non ero sicura Raccontali cosa sai fare, dai Non proprio Assolutamente Nathana Prescott c'era un pochino 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 Ok perfetto Cosa da mettere sotto Non prendere sotto gamba C'era un pochino C'era un pochino C'era un pochino Cosa 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 Allora Dove cazzo posso andare Regà, porco, due Dove cazzo mi devo mettere, regà No, regà, voglio Non mi piace i strumenti qui Stop, non è un strumento Questo è il mio amico Great Un'altra di te Eh, questo qua c'è un piatto in testa Dove mi sarei potuto nascondere, scusatemi Oh, Dio, non ho preso la tua stupida Sì, sai che credo in controllo di scuola? Sì, è il grasso? Hai stato toccato ancora qui? Oh, sì, scuola, grà Stavate le balle Sono sicko del tuo disrespetto Tell me la verità, è un ordine Non è la mia pota È da Max Is this true? In colpa a Chloe, prendi la colpa Certo Uh, sì La mia pota Allora, tu stai portando le droghe in mia casa Come se io chiedi la polizia? Tu stai scoperto il tuo registro di Spottless Blackwell? Tu sembra di andare a rinforzare, Max Sono sicko di te i pericoli di spottare Chloe Missy, tu sicuro ti piace rinforzare e iniziare i problemi Come questa mattina Non hai nulla cosa smarta da dire ora Proprio uno stronzo questo È un soldatore, Chloe E Max, se ti vedo qui di nuovo Ti saprai tutto sui problemi Yeah Grazie per prendere la calza Abbiamo veramente scoperto il tuo punk cast, Max Non è un gioco per te e me ora È un gioco epico In ogni modo, proviamo a scoprire la finestra C'è un posto cool che possiamo guardare in questo gioco Ah, ma forse Questa azione avrà delle persone Ah, ma forse sarei potuto uscire dalla finestra Non lo so Non ho idea, raga Vabbè, signori Penso che siamo già arrivati a mezz'ora Oh, cazzo, il faro Il faro, signori Io registrerò subito lo prossimo episodio Mi raccomando di lasciare sempre tantissimi like Tantissimi commenti per il prossimo episodio Qui da Capo di Square è tutto Vabbè, raga